Mi ritengo un privilegiato della categoria che può stare magari anche qualche mese senza fare spettacoli. Il 90% dei lavoratori dello spettacolo è ancora fermo e starà fermo credo fino a quest'autunno. La gente ha bisogno ancora di questo rito, del fatto di ritrovarsi assieme. Siamo in un momento intermedio, ovviamente speriamo che quest'autunno non occorra richiudere di nuovo, quindi con questa spada di Danocle sulla testa approfittiamo di questi piccoli momenti di luce. Auguro una buona estate a tutti ma non solo ai lettori della guida, anche se uno distrattamente, ovviamente in maniera molto colpevole, non dovesse leggere la guida, gli auguro comunque una buona estate.